Anche voi prendete appunti con gli iPad, ma vorreste avere dei font diversi dai soliti che ci sono ormai da anni? Ora vi mostro come ottenere dei font super carini per i vostri schemi. Comunque, spoiler! Munita di P3 Pro, ora vi faccio vedere. Per prima cosa bisogna scaricare questa applicazione iPhone. Questo procedimento è solo per dispositivi iOS. Poi, aperta l'app, bisogna andare su Font Find. Qua ci sono tutti i siti da cui prendere appunto i font. Quello solito che noi utilizziamo è DatFont. Ha veramente tantissimi temi. Quindi, scegliete quello che preferite. Questi sono i suoi top. Scarico questo. Schiaccio appunto scarico. E poi import. Questi sono tutti gli altri font che ho scaricato. Clicco su installa. Clicco su consenti. E ora devo aprire le impostazioni. Qua verrà una vocina profilo scaricato. Clicco sopra. Installo. Metto ovviamente il pin. Installo. E definitivamente installo. Ora si è messo su tutte le applicazioni di scrittura. E poi lo troverete su Notability nei font. E poi lo troverete su Notability. E poi lo troverete su Notability. E poi lo troverete su Notability. E poi lo troverete su Notability.